Eh signore Beh regà tanto mi guardate là nella telecamera bella e carina ma che mi devo mettere le cuffie? No perché insomma devo mettere le cuffie Dai Massi metto scarsetto Massi ma la vogliamo dare la notizia? No Venerdì Massi verrà a casa mia e faremo uno spoiler di una cosa che tutti non sanno Sto invitato Ma usso No Bebader Fumovit No dai Vieni da me Cioè no forse No forse Sto scarsetto Arte povera Joystick comprato da Dark GameStop 20 euro Arte povera Non molla Non molla Arte povera Bellino E Massi non è partito Perché è ingratissimo Massi No E lo Sì, guarda che sto a potecchiappi a sinistra. Ah, ma sì! Ah, raga, guardate, sto a studiare, raga. Guarda, guarda, guarda. Puggio, grazie a infame. Oh, va, sì, mi ce fa pensare, va. Ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle sette e mezza. Mi devo svegliare per sta scuola del tempo. I bestemmioni che vorrei dire, la so, giuro. I pipponi la vattano. La mette la più, la so. E pensavano disegnare questi, eh. E il massimo che metti, io me ne vado a porta e così me ne vado al cazzo. Ragazzi, speriamo che oggi il video si sente, perché ieri... Ieri, ieri ce l'abbiamo bestemmiato, ieri. Aspetta, eh. Controller di sconnesso. Ma io davvero... E' cascata la mostra in trascesso. No, se no c'è bestemmia. Ma che volevi fare? Ma che voleva? Segna questo qua, Massi. Ma che stiamo a perdere i concursi, c'è una cosa... No, se ne sono le ali, come la Red Bull. Ma Massi, ma chi è morto dalla casa di carta? Massi, chi è morto dalla casa? Chi è morto dalla casa di carta? No! No! E me sono scopato... La vicina! La fegorina! No! La fegorina è morta. Ma di Carolina, Matteo ha cazzo la questione. Una mattina mi sono svegliato e ho vinto contro la oldia nuda. Mamma mia! che io ho fatto no Massi a Massi in poche parole stella partita so fa due contro uno venerdì vieni da due giorni due giorni e all'inizio di quella maledetta scuola ne mancano quattro barra cinque a Massi ma ieri che ho visto la professoressa mia di italiano so di caffine video no 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 ragazzi secondo voi scrivetelo nei commenti che cosa gli ho detto ce l'ho salutata o ho fatto finta di niente ho detto che se segnano bestemmio cioè ragazzi dopo faremo un video in cui parleremo ma che cazzo dici no mi dissocio no no mi ci so finiamo Massi questa partita dopo iniziamo quel video facciamo l'ultima partita e dopo facciamo se no se no i Manuel è massimo novantasette bestemmio qui ah allora Twitch è il canale per te Max è per te Twitch a me Twitch non mi è piaciuto io preferito sempre YouTube ragazzi per questo video per questo video lasciate almeno quanto Massimo che andiamo scommessa entro gli undi quindici laiche Amara 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 Io ho una zia, una zia che sta fuori lì, che quando va a ballare con il piede fa così, così, così. Ragazzi, tutti insieme, sotto i commenti. Ma guadit, mi piacciono i purpet. Allora ragazzi, stavamo dicendo, andiamo a fare i seri. Sento, giovedì prossimo, raggiungiamo a questo video. I venti like, io e Massi faremo uscire la canzone prima di dicembre. Io lascerei like. Se raggiungiamo i venti like entro però... La premiera. Facciamo. Eh, non l'avevo vista, scusami. Ragà, preparate. Venerdì faremo la reaction agli ultimi video. Eh, tanti. L'ultimo video che abbiamo fatto insieme sarà stato, passa un mese fa. Pur più di un mese fa che non ci vediamo. Ragazzi, quando Massi stava qua sopra ci vediamo tutti i giorni. Purtroppo... 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 Sì, sì, lo so, lo so. E tu madre pure, vè? Eh... Però pomeriggio ci stai? Ah, se vuoi, domani pomeriggio facciamo un bel video. Non lo so. Allora, però i video da quelli là su casa li facciamo a Massi di pomeriggio. Perché meglio... Sì, prima mangiamo e così poi facciamo subito i video. Allora, ragazzi, dopo, mentre facevamo quel video che è successo a Massi, facciamo anche una piccola introduzione dei video che faremo quando Massi verrà a casa mia. Finita questa partita, Massi, io direi da spengere questo video e fare quel video. Quanto dura questo video? Quanto sta trovando, puoi guardarlo un attimo al volo? No, no, non ci fanno sognare, però, fratello, io vince questa pure. Scusate, ragazzi, se non parliamo, però... Molto! Supplementare. Adesso io parlerò pochissimo, ragazzi. Sì. 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 Sì.